Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'unica sola regina dei rally, Lancia Stratos HF Livreal Italia in scala 1 a 8, edizione Centauria. Siamo nell'anno 2022 e sì perché magari i ragazzi tra 10-20 anni ancora mi vedranno e non possono sapere in che anno è uscito questo modello. Cerchiamo di essere chiari. Uscita numero 36. È un montaggio molto semplice ma che va a arricchire ancora di più e sempre di più ovviamente ad ogni montaggio il nostro splendido modello. Seconda pagina di copertina con i numeri utili e i servizi. E questo è quello che troviamo. Io ho usato un lubrificante per crearmi i filetti con le viti a M. Queste. Le istruzioni sono spiegate in maniera ineccepibile, però devo dirvi una cosa che purtroppo, visto che grazie a Dio siete tanti a seguirmi, anche se Dio si occupa di cose più importanti del mio canale, ci mancherebbe. Sapete che è un modo di dire che dovrei evitare. E quindi dicevo che penso che a qualcuno di voi, purtroppo così come a me, ma non vi preoccupate perché c'è la soluzione, si sarà trovato il perno dell'innesto tubo benzina del serbatoio danneggiato, cioè rotto. Ma non vi preoccupate, si risolve tutto. Queste sono le uniche due mezze pagine disponibili. Peccato. Per la macchina quale è, hanno scritto veramente troppo poco. Guardate qui. Ovviamente questo modello è stato usato dal pilota Sandro Munari, mi confondevo con il nome del navigatore, ho avuto un lapsus momentaneo, è già passato. Il pilota, dicevo, Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Qua ci dice la Stratos di Munari dopo l'incidente con l'auto che procedeva a contromano. Mostra le sospensioni posteriori modificate dal reparto corse. Ecco qui. Bene. Prima di farvi vedere il montaggio volevo ringraziare doverosamente e volutamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi guardano. Grazie ragazzi. Siete continuamente la linfa del mio canale. È solo grazie a voi che io sono ancora qui. e di questo vi ringrazio con tutto il mio cuore perché, lo sapete, la passione sola non basta. Voi mi state visualizzando e io ne sono felice. Esorto le persone che mi guardano ma non si sono ancora iscritte. Se ne hanno piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così rimarrete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Spero a voi graditi. Allora, guardate. Questo è il serbatoio sinistro, poi ci sarà anche un destro. Ecco qua. Questa parte qui, il perno io, per l'inserimento del tubo, l'ho trovato danneggiato. Cosa ho fatto? Vi faccio subito vedere. Mi ero preparato tutto e adesso non trovo nulla. Ecco qua. Ho preso il perno che era contenuto dentro la busta. Ho preso questo utensile, ma va bene qualsiasi cosa punta. L'importante è che non superiate troppo il diametro del perno che poi dovrete inserire. Ho forato. Ho preso una colla. Ho usato un epossilico bicomponente. Ho inserito il perno e l'ho saldato. Quindi, poi andrò a mia volta a prendere la colla per inserire in sicurezza questo tubo qui. Il tubo della benzina che dal serbatoio poi va al filtro benzina e da qui alla pompa della benzina che poi vedremo. Mi raccomando, non vi dimenticate, cari ragazzi, di incollarvi tutti, tutti, tutti i tubi, compreso le pompe della benzina al telaio, anche il telaio della batteria. Io ho incollato tutto perché col tempo ve lo garantisco, i tubi, soprattutto quelli che sono in flessione così, vi si staccano. Fate attenzione. Allora, prima cosa, all'interno troviamo il serbatoio sinistro e la base del serbatoio plastica. Poi questa che è la trave superiore che poi andrà con i due perni a inserirsi sopra la parte sinistra del telaio dove c'è il motore. Abbiamo il tappo del serbatoio plastica cromata, questo è il filtro benzina, tubo benzina, gomma, filtro benzina. Stavo guardando. Io avevo un po' di vernice argentata qui, sono andato a grattarla mentre l'hanno dipinta e l'avevano sporcata, nessun problema. Tre serie di viti, adesso come potete vedere nei miei sacchettini mancano perché chi mi conosce lo sa, io per portarmi avanti con il video, per cercare di non farlo ulteriormente più lungo, ho già inserito le viti nei posti dedicati e mi sono già creato tutti i filetti. Comunque troviamo tre serie di viti, AM, lettera finale M vuol dire che va avvitata nel metallo, quindi ho usato il lubrificante, AP ed RP, lettera finale P, plastica, non va usato alcun tipo di lubrificante. Vi ho spiegato più volte il perché. Allora, iniziamo. Come vi ho anticipato il montaggio è molto semplice. Io mi sono andato anche a prendere le viti AP, le ho vitate qui, qui, per crearmi il filetto, non è indispensabile, è una plastica molto tenera, però io sono abituato a crearmi i filetti per evitare appunto che possa magari un giorno, pensando che non sia necessario, perdere questa buona abitudine e spezzare una vita all'interno. Quindi, prendiamo questo pezzo, una vite RP, andiamo ad avvitarla qui, la vite RP è quella con il collarino che sembra una rondella, eccola qui. La avvitiamo, prima fino in fondo, poi la svitiamo un po' perché dobbiamo lasciare lo spazio di questo, che è il filtro. Ecco qui. Mettiamo questo in questa maniera e inseriamo il filtro. Non si inserisce, svitiamo semplicemente un po' la vite. Ecco qua. Quando è che saremo sicuri che tutto è inserito bene? e guardate quando queste due parti qua andranno imbattute in queste due elette, queste esterne. Teniamo così e avvitiamo. Quando avvitate, tenete sempre il dito indice sopra, altrimenti questo vi si gira, guardate. Vedete che si gira? Tenetelo sempre contro. Ecco qua. Accertatevi che non scappi, così è perfetto. Poi, semplicemente questo. Prendiamo le due viti. Abbiamo detto queste. le api e chiudiamo il serbatoio. Senza stringere fino in fondo. Mettiamole prima tutte e due e poi stringiamo. Giro il cacciavite al contrario finché non sento il clacke e avvito solo se vi siete creati i filetti. c'è qualcosa che non mi piace qui, guardate. Rimane questa apertura qui che non va bene. facciamo una cosa. Svitiamo. Proviamo senza tappo se è un difetto della plastica, ma non credo. E poi vediamo. no. Quindi è questo pezzo che mi crea problemi. Andiamo a vedere. Allora inseriamolo così, prima. vedete perché vi dico, iscrivetevi al canale di Michele. non mi occupo del solo montaggio, ma cerco di aiutare tutte le persone che hanno meno esperienza nel montaggio dei modellini ed evitare così che il modello possa subire dei danni creati da un cattivo, un montaggio non corretto e che invece il montaggio sia perfetto. Guardate, così a me non piace. Si allarga il pezzo. Metto questo e mi si allarga. Quindi se mi si allarga il pezzo semplicemente devo consumarlo qua sotto. Sì, perché non entra proprio. Facciamo così. Un attimo che prendo una lima e vi faccio vedere. Per fare un lavoro correttamente vi faccio vedere tutti i passaggi. Quindi avvitiamo il serbatoio senza il filtro. Così saremo certi quando andiamo adesso ad intervenire con la lima che non ci farà più questo brutto scherzo. Ecco, vedete? Ovviamente adesso è perfettamente allineato. Prima non mi piaceva, si vedeva l'apertura, per carità. Ma anche no. Fate attenzione al perno della benzina e che lo danneggiate. Non vi dimenticate mai non appoggiatelo e spingete perché lo rompete. Ecco. Guardate cosa succede. Oh, per carità. No, 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 no. Allora, andiamo a consumarlo. Lo consumerò. Qui no, perché in piano lo consumo sotto. Vediamo se riesco a ingrandire un po'. Non mi saltate le pubblicità, ragazzi. Mi raccomando, eh. Aiutatemi, ve l'ho già chiesto più volte. Non mi saltate le pubblicità. Vi ringrazio. Se poi qualcuno avesse piacere di farsi montare il modello da me, i contatti privatamente. Allora, vediamo adesso se basta. non abbiate fretta di limare troppo. No. Non basta ancora. E noi ne limiamo ancora un po'. Vediamo. Io, ragazzi, potrei mettere anche la pausa e rendere il video più breve. E magari lo farò, perché comunque si tratta di limare e provare finché vedete che non va perfettamente all'interno senza andare però ad alzare il pezzo. Ancora un po', vedete? Poca roba, ma ancora un po'. Poco, eh. Perché già così va meglio di prima. Ci vediamo dopo. Decisamente meglio, guardate. Avete visto? Ok. A questo punto ci dice di attaccare il tubo di benzina qua sotto. Prima di farlo mettiamo il filtro. Potete metterlo, inserirlo sia da una parte che dall'altra. Non c'è alcuna differenza. Qui abbiamo un difetto di lavorazione. Più che un difetto è l'iniezione, dove il punto poi dove nello stampo viene iniettata la plastica. Quindi quello che vi consiglio sempre è o se avete un colore argento uguale consumarlo e poi ritoccarlo altrimenti ricordatevi io adesso vi faccio vedere il montaggio così. Poi andrò a smontarmi di nuovo i tubi e mi andrò a mettere il collante. Quindi fate attenzione. Non usate la loctite perché cristallizza la gomma e con gli anni si spezza e vi trovate i tubi volanti in giro. Quindi quando poi andrò a metterla cercherò una volta posizionato tutto e incolato i tubi cercherò di lasciare dietro la parte difettata quindi il bello davanti. Ok. questo lo metterò qui non importa se adesso si stacca perché il perno è più corto vi ho spiegato perché non ci sono problemi perché poi lo incollerò. Comunque questo va qui si staccherà ma non è un problema. Poi andiamo a prendere anche il nostro bellissimo tappo cromato guardate che bello abbiamo una mezzaluna dietro e il perno ovviamente dedicato andiamo a metterlo nell'unica maniera possibile ecco qui bellissimo veramente bello poi ci dice di inserire il tubo però non lo so se è meglio inserirlo prima o dopo adesso vediamo allora ecco qua il nostro modello poi prima di salutarci farò una rappresentazione di tutto quanto quello che ho montato fino al numero 36 poi ci salutiamo quindi state con me mi raccomando allora prendiamo una vite AM e andiamo a crearci i filetti ricordate di utilizzare un lubrificante qualsiasi lubrificante andiamo a crearci i filetti uno qua e uno qua vedete io ho già le viti inserite in realtà mi sono andato a creare i filetti anche qua dietro tanto poi ci sarà il secondo serbatoio e ho creato il filetto anche qui e qui dove vedete la vite ma potete farlo anche dopo quando vi arriverà il numero dedicato al serbatoio nessun problema adesso vado a rimuovermi le viti queste allora sto valutando solo se attaccare il tubo primo o dopo adesso vediamo allora il tubo che ci dice di usare è il primo vi faccio vedere eccolo qua è questo qua il primo tubo superiore questo guardate ce n'è in mezzo uno con il perno libero lo usiamo questo ecco qua io ho incolato tutto ve l'ho detto andiamo quindi ad attaccare questo lo facciamo passare dietro il trave così sto pensando a se far passare il tubo dei freni dietro oppure davanti al tubo benzina no è meglio che sia il tubo benzina dietro un attimo ragazzi sto ragionando a voce alta io direi così che è meglio così tubo benzina sopra il tubo dei freni inseriamo questo all'interno ricordatevi che io poi andrò a incollarmi tutto ecco qui ho incollato anche le pompe della benzina al telaio perché vi si staccano questo lo metto ma si stacca dopo col collante non si staccherà più e vado ad avvitarmi le due viti a M dove mi sono andato a creare i filetti che bello questo modello mi piace veramente tanto andatevi prima a mettere quelle bassa quella vite bassa perché perché questa vi si potrebbe staccare una volta che è avvitata non si muove più si potrebbe staccare dalla vite interna vi ho appena spiegato che il tubo non l'ho messo per quel motivo ovviamente voi mettetelo però incollatelo subito perché poi non lo riuscite più a fare allora guardate staccatelo il tappo cromato fanno male a farcelo mettere prima perché con il cacciavite facilmente potreste danneggiare la cromatura quindi non lo fate e fate anche attenzione a un'altra cosa quando avvitate a non rovinare la vernice sopra il tappo usate un cacciavite sottile come questo con la punta più piccola così eviterete di danneggiarlo perché lui non toccherà la vernice sotto ecco qua ecco fatto bellissimo e infine possiamo mettere questo di nuovo ecco qui questo lo mettiamo sotto qua fate finta che sia inserito vi ho spiegato tutto ormai poi andiamo a mettere questo in questa maniera le istruzioni sono spiegate le istruzioni sono spiegate benissimo così guardate la lettera L come deve essere l'unica cosa provate a vedere se il perno vi entra così piano piano delicatamente se non vi entra e fate tanta fatica non sforzatelo perché se vi si spezza sarebbe un peccato allora io sono andato semplicemente a crearmi un invito leggero solo in superficie per renderlo conico poi sotto chiaramente riuscirà a tenere bloccato il perno e questo mi facilita l'inserimento e evita qualsiasi tipo di rottura ecco qua perfetto che bella quanto sono contento di questo modello così come lo sarete anche voi è bellissimo sono veramente contento sì mi sarete accorti che manca la ruota è il disco dei freni eccolo qua adesso tanto andremo a mettere tutto perché vi spiegavo che è più facile da maneggiare il modello un'altra cosa che vi ho anche detto nell'altro video non alzate il modello così tenendolo appoggiato perché rischiate di danneggiare le marmitte tenetelo sempre sollevato da dietro non alzatelo mai così ricordatevi anche il video dell'errore comune guardate le linee che devono essere uguali di qua e di qua perché? perché potete inserirlo come volete ma il modo corretto è questo poi per carità ragazzi non dobbiamo usarla adesso vado a montare tutto per poter fare la rappresentazione e la foto quella della copertina e ci vediamo dopo guardate che meraviglia cari iscritti e futuri iscritti guardate che meraviglia ammortizzatori anteriori bellissimi sterzo guardate non c'è alcun rumore andate a vedere la modifica questo è quello che abbiamo appena montato bellissimo ammortizzatore posteriore spettacolo bellissimo abbiamo il manubrio abbiamo la bicicletta qui il volante in metallo verniciato gruppo fari secondari con i led all'interno questo è il cavetto di alimentazione vi faccio vedere una cosa adesso ditemi se non sapeste che è un modello non vi sembrerebbero veri guardate le parabole con la scritta carello ricordatevi che dovete avere la scritta sulla destra altrimenti avete sbagliato il montaggio guardate bene il disegno gli esterni verticali e questi così sembrano vere io sono rimasto veramente sterefatto quando l'ho visto la prima volta copertura del gruppo fari secondari livrealitalia verniciata bellissima bellissima guardate adesso questo splendido cofano anteriore quanto è bello gruppo gruppo fari primari funzioneranno grazie a due led questi sono solo di bellezza sia questi che le frecce targhetti in alluminio verniciato campioni del rally di Monte Carlo del 1976 campioni del mondo 1975 targa storica Torino griglia in metallo guardate che verniciatura bellissimo qui potrete notare che ho fatto la modifica anche se sto pensando come migliorarla ulteriormente già così è molto meglio di quella che ci facevano vedere loro mancano i gancetti perché vi ho consigliato di toglierli gli innesti rapidi perché se li perdete è un peccato qui abbiamo i due cavetti sono veramente contento di questo modello che bella ragazzi mamma mia quanto è bella questa macchina che è opera d'arte che è opera d'arte qui ci saranno poi gli elastici che rimarranno in posizione in tensione o in trazione grazie a queste appendici metalliche questi ganci vi devo far vedere la macchina così non la posso alzare perché come vi ho spiegato se la alzo rischio di danneggiare le marmite dietro ecco la inclino solo guardate che che muso che ha quest'auto chi la ama questo modello se può lo fa perché è veramente fatto bene poi in scala 1 a 8 ragazzi non è è una delle scale più grandi tra le scale più grandi che insomma sono in vendita bene io vi ringrazio del vostro tempo vi abbraccio tutti un saluto anche a tutti i vostri cari più cari mi raccomando ragazzi quando compare la pubblicità se davvero mi volete aiutare preparatevi un buon caffè fate quello che volete ma non saltate gli annunci grazie ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando guardate la mia playlist se non attivate la campanella non vi arrivano le notifiche ok ciao ragazzi al prossimo video non mancate ciao ciao